Chi sarà il prossimo direttore dei Solisti Veneti? Non ho il divieto di dirlo, non tocca a me. Quando lo sapremo? Il 21. La conferenza stampa il 21 di maggio prossimo. Qui in municipio o presso la vostra sede? Qui in municipio ci sarà la presentazione del Veneto Festival e in quell'occasione parleremo anche del futuro dei Solisti Veneti. Nessuna anticipazione, se sarà un direttore italiano o straniero per esempio? Nel momento non diciamo niente. Ancora alcuni giorni di suspense per conoscere chi prenderà in mano la bacchetta che fu di Claudio Scimone. Nel frattempo è invece certo il programma della Primavera di Tartini 2020, il progetto dell'Università di Padova, del Conservatorio, del Comune, degli Amici della Musica, l'edizione 2019 dedicata alla memoria del maestro Scimone. Tra maggio e giugno si terranno cinque escursioni con guide specializzate al sabato pomeriggio ai luoghi padovani legati a Giuseppe Tartini, ogni volta con concerto finale. I luoghi simbolo del maggiore compositore padovano di adozione, nato a Pirano, sono la chiesa di Santa Caterina dove si trovano le sue spoglie, quella dei servi, Prato della Valle e la Basilica del Santo. Tartini è Padova, dedicato tutta la vita a Padova, ha suonato tutte le domeniche a Santo Antonio, rifiutando tutti gli inviti da Praga, da Amsterdam, da tutte le parti, è rimasto solo a Padova. Oltre ai pomeriggi tartiniani, il programma prevede un concerto nella chiesa di San Gaetano lunedì 27 maggio. Altri concerti con musiche di Tartini, in questo caso eseguite dai solisti veneti, si terranno il 18 maggio al Santo e il 31 agli eremitani. Sul palco, per questa data, ci sarà il direttore erede di Claudio Scimone.